Con numero 1 Pacific Model, il 2 Sylven Griff, il 3 Sirena Dazzle, il 4 Solo Caffe, il 5 Roden, completamente sferrato, il 6 MIG N. Poco più di 200 metri allo stacco della macchina, allineamento che si va completando. Tutti bene a rete, ad eccezione di Sylven Griff, che per ora sta recuperando, rinuncia al lancio Solo Caffe, con cautela Sylven Griff, lungo la corta Pacific Model che cerca di rientrare a Roden, mentre Sirena Dazzle si adegua in terza posizione, ma Roden è riuscito a scavalcare Pacific Model sullo slancio, Sirena Dazzle, la terza davanti a MIG N e poi Sylven Griff e solo Caffe, Sestetto che si è sistemato in fila indiana già lungo la prima curva e Roden, dopo lo strappo iniziale, cerca subito di ridurre drasticamente l'andatura, operazione che riesce ad Antonio Simioli, perché il primo quarto è in più di 30, l'andatura è davvero modesta, il primo a muovere all'esterno è Sylven Griff, ha ulteriormente decelerato Roden, si va pianissimo davanti alle tribune, con Sylven Griff che avanza, Sirena Dazzle che sposta dalla corda, ma si fa infilare all'interno da MIG N e al pari di Pacific Model, MIG N ha infilato tutti all'interno, tanto da ritrovarsi nella scia di Roden, perché Pacific Model ha allargato nel tentativo di prevenire Sylven Griff, ora il mezzo miglio iniziale è addirittura in 1,6, si viaggia sul piede dell'1,22, con Sylven Griff al lato di Roden, MIG N che fa coppia con Sirena Dazzle, Pacific Model che si sposta dalla corda e lascia in coda solo Caff, condotta in chiave ultratattica da Roden, la corsa quando siamo all'attacco della curva finale, Sylven Griff prova a premere all'esterno, i 1,2 sono in 1,35,3, con Sirena Dazzle che si affaccia generosamente in terza ruota, sull'allungo di Roden e Sylven Griff, poi lungo la corda MIG N che però non ha spazio, Roden all'interno, a largo ci prova Sirena Dazzle, poi Sylven Griff prova lo scatto a largo anche Pacific Model, sta passando di slancio, Sirena Dazzle a centropista, lungo la corda, varco per MIG N, poi Sylven Griff nel finale, Sirena Dazzle che vince di forza su MIG N che dovrebbe essere secondo, su Sylven Griff e Pacific Model. Svolgimento del tutto inatteso della corsa e rendimento assai deludente, soprattutto da parte di Roden che aveva condotto a piacimento, ma in retta di arrivo si è arreso a tutti gli avversari, in particolare a Sirena Dazzle che con Ciro Ciccarelli ha prodotto il suo scatto a centropista, per onorare il ruolo di netta favorita, lungo la corda Varco per MIG N che è andato praticamente sempre per Varchi, ed è stato infine premiato con il posto d'onore su un ottimo Sylven Griff che si è industriato all'esterno nel giro finale 362 l'arrivo ufficioso della quarta di Capannelle.